Buonasera a tutti e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'economia. L'Unione Europea rivede al ribasso le stime del 2013 dell'Italia, mezzo punto di peeling a meno per il nostro paese che dovrebbe tuttavia tornare a crescere dello 0,7% nel 2014. Intanto ci avviamo verso un nuovo record non certo bello da detenere ed è quello del debito pubblico, il servizio. Nuova mazzata sull'Italia, le stime dell'Unione Europea sulla crescita italiana o decrescita, sarebbe il caso di dire, nel 2013 peggiorano ulteriormente. Dal meno 1,3% indicato in primavera si passa al meno 1,8%. La UE indica tuttavia uno spiraglio di luce, nel 2013 infatti dovrebbe essere l'anno di svolta, quello in cui il paese tocca il punto più basso per poi risalire, se non di slancio almeno sensibilmente. Resta dunque invariato allo 0,7% l'aumento del PIL ipotizzato per il 2014. E questo segno più, benché incluso nella categoria dei decimali, lascerebbe ben sperare. Al punto da spingere la Commissione Europea a scrivere che la recessione potrebbe essere al punto di svolta. Dopo una nuova forte contrazione, nel 2012-2013, l'attività si riprenderà gradualmente nel 2014-2015. Dati questi, cui il mercato guarda con attenzione, poiché tengono già conto di alcune anticipazioni della legge di stabilità. Intanto il debito pubblico italiano punta un nuovo record, dal 133% di quest'anno al 134% previsto nel 2014. Crescita da scrivere, secondo Bruxelles, al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Più in generale, la ripresa economica dell'eurozona resta sotto l'incognita dei mercati emergenti, mentre i paesi più in crescita nel 2013 sono Lussemburgo, più 1,9%, Malta, più 1,8% ed Estonia, più 1,3%. Buone prestazioni nel 2013 anche per Germania e Francia. Il PIL tedesco crescerà dello 0,5% e quello in Francia dello 0,2%, con prospettive per il 2014, rispettivamente di 1,7% e 0,9% per la Francia. E sempre dall'Unione Europea arriva un dossier che certo non ci farà piacere. Una relazione dell'eurodeputato Sören Sördergaard mostra come la ricostruzione post-terremoto all'Aquila sia stata un'occasione per affrodare e distrarre soprattutto molti fondi europei. Vediamo servizio. Si vorrebbe essere ottimisti sul sistema Italia nel suo insieme, soprattutto in una fase in cui il disfattismo non aiuta a uscire dal bantano della crisi. Purtroppo ogni volta che ci si prova arrivano notizie come quelle contenute nel rapporto sulla ricostruzione dell'Aquila realizzato da Sören Sondergaard, membro della Commissione Conti che controlla il bilancio dell'Unione Europea. Un dossier, quello presentato al Parlamento Europeo, che denuncia sprechi e infiltrazioni mafiose. E non risparmia la Commissione stessa. Sondergaard infatti ha setacciato l'Abruzzo per verificare le denunce della Corte dei Conti di Lussemburgo che aveva espresso diverse perplessità sull'uso dei 493 milioni del Fondo di Solidarietà Europeo stanziato per il terremoto del 2009. Denunce ritenute infondate dalla Commissione Europea, da qui il biasimo contenuto nel documento anche nei suoi confronti. Il rapporto di Sondergaard, al contrario, conferma che i fondi non furono utilizzati per operazioni di prima emergenza, come erano previsti, ma per la ricostruzione, non solo. Gli appartamenti del progetto case sono costati il 158% del valore di mercato e i moduli del programma MAP, moduli abitativi provvisori, sono in materiale scarso, se non addirittura pericoloso. Gli impianti risultano difettosi, tanto da rendere necessari in talunni casi l'evacuazione. Ma le falle denunciate da Sondergaard stanno anche nell'uso spregiudicato dei subappalti da parte della protezione civile e in omissioni di controllo che hanno favorito infiltrazioni della criminalità e delle mafie. Tanto da arrivare, si legge nel rapporto, avere proprie normative scritte per favorire interessi non chiari. Uno scandalo sulla pelle dei terremotati che potrebbe condannare l'Italia alla restituzione di oltre 300 milioni di euro non utilizzati o male impiegati. Un fiume di denaro esondato dal suo corretto alveo anche a causa delle omissioni di controllo che il deputato rimprovera senza mezzi termini anche alla Commissione di Bruxelles. Il ministro dell'interno Angelino Alfano presente a Milano per l'inaugurazione del Lake ma commenta insieme al governatore della regione Lombardia Roberto Maroni il caso che sta tenendo banco in questi giorni ossia quello di Anna Maria Cancellieri. Ne scaturiscono due opinioni diametralmente opposte che ha raccolto la nostra Silvia Legnani. Ancora al centro dell'attenzione politica il caso del ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri finita nella bufera per un presunto interessamento in merito alla scarcerazione di Giulia Ligresti. Ha commentato la situazione il ministro Angelino Alfano oggi a Milano per l'inaugurazione di EICMA. Noi invitiamo calorosamente, convintamente il ministro Cancellieri a rimanere a fare il ministro della giustizia così bene come lo sta facendo. Il ministro Cancellieri è una persona per bene, un funzionario dello Stato di altissimo pregio con una carriera brillante che non può essere oscurata da un gesto che noi riteniamo compatibilissimo con i suoi doveri di ufficio. Ed il fatto che tale gesto sia stato da lei compiuto in tantissime altre circostanze per tantissimi altri detenuti rende chiaro il suo comportamento, per cui da parte nostra vi è il massimo e pieno sostegno. La Lega Nord è invece orientata a chiedere le dimissioni del ministro. Ad oggi io sono per le dimissioni, perché il comportamento suo ho sentito anche l'ex ministro Castelli che mi conferma questa cosa. È un comportamento scorretto, quindi... Però aspetto di sentire questa mattina che cosa dirà per giustificarsi al Senato e poi decideremo. Abbiamo ben chiara le idee. E dopo l'incontro avuto ad Arcore, il vicepremier Alfano ringrazia Silvio Berlusconi per avergli riconfermato il suo giudizio di fiducia al governo. A noi, con il presidente Berlusconi, non ci sono mai state divisioni riguardanti i valori e il programma del partito. L'unico punto di dissenso è stata la valutazione di giorno 2 ottobre sulla fiducia al governo, che è stata superata con il voto di fiducia del presidente Berlusconi. Questo suo giudizio di fiducia mi è stato riconfermato e dunque credo che una stabilità di governo abbinata ai contenuti del nostro programma sia la chiave di volta per un'unità che sia fondata sul programma del popolo delle libertà che si può realizzare ovviamente nell'ambito di un governo che non è il nostro e per altro verso in un partito che per il futuro, per la selezione delle leadership di coalizione scelga le primarie. Apriamo ora l'ampia pagina dedicata agli esteri tragedia in Norvegia dove uno squilibrato sequestra un pullman e uccide addirittura tre ostaggi il servizio. Tragedia su un autobus di linea in Norvegia dove un uomo armato di coltello ha preso in ostaggio i passeggeri uccidendone tre. L'autobus era diretto a Oslo ma il sequestro è avvenuto tra le località di Ardal e Tin a nord di Bergen, nell'ovest del paese. L'aggressore originale del Sudan pare sia rimasto ferito ed è stato arrestato dalla polizia. Di lui al momento si sa solo che è straniero e non è chiara ancora la sua età e nemmeno le ragioni del gesto ma nulla sembra indicare che conoscesse le sue vittime. La tragedia è stata scoperta dalla polizia grazie alla segnalazione di un incidente stradale. Le vittime sono due uomini di circa 50 anni il conducente norvegese e un passeggero svedese e una 19enne norvegese. Il sospetto è stato portato che per il 2013 l'EICMA si conferma come uno dei più grandi eventi al mondo dedicati al panorama motociclistico. Una Kermess che vede come protagonisti tutti i nuovi modelli di moto che saranno poi al centro della stagione 2014. Una sequenza di luci e colori, motori e vernici metallizzate, design futuristici al fianco di moto dal gusto retro, sportive, fuoristrada e scooter. Un universo fatto di passione e velocità ma anche di razionalità e soluzioni intelligenti. Presente all'inaugurazione, oltre al ministro Angelino Alfano e al presidente della regione Lombardia Roberto Maroni, l'assessore regionale allo sport Antonio Rossi. Occasioni come queste sono molto importanti per gli appassionati, soprattutto di moto, per vedere i nuovi modelli, le ultime novità. Io sono un grande appassionato di motociclismo e quindi sono venuto anch'io, sia nel ruolo istituzionale ma proprio come appassionato a vedere le ultime novità. Devo dire che il nostro territorio e le nostre province offrono dei percorsi che sono fantastici e magari fuori dalla strada principale, soprattutto se fatta in moto e in bicicletta, trovi dei paesaggi incredibili che merita a fare. Quindi sono qui anche veramente come appassionato per vedere alcune novità. Andiamo a Milano per l'episodio tragico della donna travolta e uccisa sulle strisce pedonali e indagato un autista dell'ATM. È indagato un autista dell'ATM per il tragico incidente di lunedì sera a San Donato Milanese dove una donna di 65 anni, Renata Vago, è stata travolta e decapitata. L'uomo, intercettato intorno alle 3 di notte, è ora indagato mentre la compagnia di mezzi pubblici fa sapere che secondo la loro ricostruzione l'autista non si sarebbe accorto del corpo già a terra poiché precedentemente travolto da un altro mezzo. Appena sopraggiunti i soccorsi, proprio per le condizioni del corpo, è parso subito evidente che coinvolto nell'incidente doveva essere un mezzo pesante. L'autista, di certo, non si è accorto dell'impatto con la donna dal momento che il suo corpo è stato trascinato, incastrato tra le ruote posteriori per oltre 40 metri. Inconsapevoli anche i passeggeri, non più di una ventina a bordo del mezzo sul quale, sempre secondo ATM, non sarebbero stati trovati segni evidenti dell'investimento. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17.30 di lunedì sulla via Emilia, all'incrocio con via Moranti. Bene, con questo è tutto. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi rimando al prossimo appuntamento con il nostro telegiornale. Buonasera. Grazie. Grazie.